Ho conferito il legno perché purtroppo i tagli ne avevano fatte, quindi si presentava molto spugnoso, facile accettimento, insomma non era in condizione di poter leggere a lungo. E anche la croce era dipinta in nero, invece ciò che abbiamo trovato questa bella preparazione da gente medica. Voi ne avete visto molto bello, perché non mi ricordo quale chiesa che ha questo stesso tipo di croce. È diverso il Cristo completamente, ma la croce famiglia molto.